Sono Romulo Meni, un chirurgo plastico da Rio di Janeiro, oggi a Polonia, a Varsavia, sono venuto per aggiornare con il collega Polacchi sull'argomento della chirurgia plastica, regenerativa, estetica dal punto di vista per combattere o controllare l'invecchiamento. Sono un chirurgo plastico da 40 anni, con la formazione piena della chirurgia plastica tradizionale e la ricostruttiva, oggi parliamo ancora di un altro tipo di chirurgia plastica che sarebbe la regenerativa. Ho visto subito che la chirurgia plastica tradizionale non era forse la proposta ideale per regiovenire una persona che invecchiava. Il processo di invecchiamento è un processo infiammatorio, cronico, progressivo, atrofico e irreversibile. Il yellow peel è un peeling che ho pensato circa di 20 anni fa, che muove il settore vascolare di una pelle che si invecchia, dal punto di vista che la pelle quando invecchia si atrofia, così diminuisce la circolazione della pelle e il volume viene ridotto e la flaccidee sicuramente viene. Allora, dal punto di vista medico, clinico, abbiamo cercato di fare diversi tipi di intervento che poteva mettere a posto questo sistema vascolare che era in decressimo, che era proprio rovinato per il tempo, per il sole e per questo è nato questo peeling che stimola il microcircolo che si atrofia e ritorna alla pelle una bella circolazione, anche un bello volume. Allora, sicuramente ce l'ho tanti seguitori in Polonia, perché qui siamo già da 20 anni e tanti gruppi polacchi hanno andato da me a Rio e così abbiamo una visione diversa per trattare l'invecchiamento. Ce l'ho Marcin, che tu lo conosci, c'è la Eva anche, la dottoressa Eva Klebus, che è un'altra dermatologa e possiamo nominare tanti, 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 forse una decina di dottori che mi seguono e per questo sono felice di tornare qui in Polonia, in Varsavia, ieri a Katowice. Secondo me è stato un punto importante per dire che non serveva la chirurgia plasica di faccia per i giovenili a tutti. La metodica attuale è sempre il discorso vasculare. Una pelle vecchia manca il sangue. Allora, quando manca il sangue per ogni fattore, per esempio questo della presenza al sole, la pelle è atrofica. Sulla azione della UVB abbiamo i tumori, i marchi e l'ispessamento, proprio l'ingugamento della pelle dal punto di vista che è stato attaccato per il tempo o per la presenza al sole. Sono due cose diverse, cronoaging e fotoaging. Allora, una donna che c'è un po' di grasso sotto la pelle, non invecchia tanto così, ma una donna che è dimagre e che va troppo a sole, non c'è una protezione di un po' di grasso, questo è un punto ideale, è avere sempre un sostratto grasso per sostenere la pelle. Allora, il fattore nutrizionale è coinvolto in questo protocollo quando vogliamo riprendere il volume e la bellezza della pelle. Allora, io lavoro in favela da tanti e mi piace tanto, è una donazione personale e spirituale. Però la cosa lì a Rio viene organizzata perché sono un cavaliere dell'Ordine di Malta, il segretario generale di questa ordine. Siamo 30 cavaliere a Rio che facciamo questo lavoro in favela, o come si dice in Brasile, comunità carente. e siamo tutti grossi imprenditori e io sono l'unico medico che lavora lì al campo proprio. Altri sono industriali, ingegneri, architetti, però sempre gente per bene che dona il suo tempo per mantenere una struttura dove facciamo trattare i bambini e i vecchi. Tutte le malattie vengono da noi. Questa è un'organizzazione mondiale che mi piace tanto pertenere, pertenzione a questo sistema perché è organizzato. Secondo me la medicina estetica per forza bisogna tornare dietro e cercare di essere il primo medico e guardare proprio l'invecchiamento come una malattia infiammatoria. Allora non pensare mai di fare cosa che non c'è senso, dal punto di vista che prima deve essere il medico, fare un diagnostico corretto di che cosa succede sull'invecchiamento e cercare con i fattori nutrizionali di aggiustare a lungo questo processo infiammatorio. Allora il consetto di bellezza è molto particolare, esiste la bellezza in diversa età, allora un bambino, un giovane, una signora da 50 anni, una signora da 90 anni hanno una propria bellezza, la bellezza può stare dentro di un cipo casiale, i neri per esempio hanno la sua propria bellezza, che non si deve cambiare un naso nero o di un'altra assa perché è proprio l'equilibrio della sua bellezza. La bellezza coinvolve una cosa molto importante, la spiritualità e senza questo la bellezza è polvera, senza la spiritualità insieme e il caratter di una persona la bellezza non esiste proprio, una persona bella, caciva non è bella.